Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di San Severo è stato approvato un importante a capo posto all'ordine del giorno dal presidente Marianna Bocola. Il Consiglio, con 18 voti favorevoli e solo due astenuti, ha approvato la delibera avente ad oggetto la realizzazione degli alloggi ERP ad opera dell'arca capitanata. Si tratta di un finanziamento, dichiara il sindaco di San Severo Francesco Miglio, di 3.083.600 euro per la realizzazione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica ad opera dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. Gli alloggi saranno ubicati tra le vie Giovanni Guareschi e Mario Carli. Le abitazioni che saranno costruite, ha assicurato l'arca, rispetteranno standard elevati qualitativi, lontano dalla concezione del passato utilizzata per la costruzione di simili abitazioni. Il sindaco di San Severo ha sottolineato come questo importante a capo abbia avuto il voto favorevole di gran parte dei consiglieri di minoranza. Segnale, ha detto Miglio, inequivocabile della bontà dell'azione amministrativa e della condivisione politica di ogni schieramento su argomenti pregnanti e di vitale rilevanza.